PEGI 18 Leo! Oh! Facciamo una bella partitina con World War 2, eh? Gabo, avvia questa streaming, dai! Facciamoci sto video! Un video? Attenzione! Anzi, eccezionale! Vuoi diventare con un video uno dei nuovi protagonisti della community italiana di Call of Duty? Stai parlando con me? No! Stai cercando giocatori bravi, allora? No, non cerchiamo pro gamer! Stai cercando youtuber affermati? No! Il numero di iscritti non conta! Ma... Giacchiamo solo maschi? No! Ci sono un sacco di giocatrici là fuori! Ragazze, mi raccomando, fate sentire anche voi la vostra voce! Figata! Uno spazio per una nuova generazione di players e youtubers! Ecco cosa cerchiamo! Nuovi talenti! Talenti capaci di raccontare e trasmettere le emozioni di Call of Duty! Volti che rappresentino la community italiana sulla rete! Sì, ok Ivan, tutto bello, tutto fantastico, ma come si fa a partecipare? Eh, guarda! Signori, prenotate World War 2 per PS4! E riscattate il codice per accedere alla meta privata disponibile dal 25 agosto! Realizzate poi un commentary con il vostro stile e caricatelo su YouTube! E mandateci il link entro il 17 settembre a questo indirizzo mail! Selezioneremo poi otto candidati che si sfideranno in una finalissima senza esclusione di colpi! Ma non saranno necessariamente più forti a vincere! Noi saremo i giudici e saremo spietati! Sì, vabbè Ivan, abbiamo capito! Dai raga, ci vediamo alla beta! Vabbè, partitella! God Wants You! E basta! God Wants You! Prenota e ottieni l'accesso alla beta privata! Prenota e ottieni l'accesso alla beta! Grazie a tutti